Musica Entrate in calo, inflazione in stallo, i prezzi salgono e le difficoltà aumentano nella spesa di tutti i giorni. Monti all'Hollande, la sconfinta della Merkel mette l'Italia in grado di fare muro insieme alla Francia al rigore tedesco. Napolitano alla Consob, cauto ottimismo del Presidente della Repubblica. Presidio antiterrorismo, i sindacati di polizia di Milano davanti a Palazzo Marino. Buonasera e ben ritrovati a questo appuntamento con City News. Lo avete sentito dai nostri titoli. Entrate in calo a fronte di un debito che sale. La situazione dell'Italia non è molto rosia. I ricari della benzina hanno ricadute sui prodotti di maggiore consumo. Una buona notizia, l'inflazione resta stabile ad aprile. L'indice nazionale dei prezzi al consumo è risultato al 3,3%, mentre su base mensile è aumentato dello 0,5%. L'Istat comunque avverte, ed è questa la notizia meno buona, che l'aumento dei prezzi resta a livelli elevatissimi, con pessime conseguenze sul carrello della spesa. Ad aprile i prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza sono aumentati dello 0,4% su base mensile. Il tasso tendenziale è salito al 4,7% dal 4,6 di marzo. L'agente principale del rincaro resta l'aumento costante dei prezzi dei carburanti e la ricaduta provocata sui prodotti acquistati con più frequenza. Ricordiamo ancora che il prezzo della benzina è aumentato su base annua del 20,9%, in forte accelerazione rispetto al 18,6 di marzo, mentre su base mensile sale del 3,2%. Il rialzo tendenziale è il più alto da maggio 1983, ovvero da 29 anni. Complessivamente l'inflazione per il 2012 è pari al 2,7%. I maggiori incrementi congiunturali dei prezzi rilevati nel mese di aprile 2012 riguardano le divisioni servizi ricettivi e di ristorazione, trasporti, abitazione, acqua, elettricità e combustibili. Aumenti su base mensile più contenuti si rilevano per i prezzi delle bevande alcoliche, dei tabacchi, più 0,4% e dell'abbigliamento e calzature, più 0,3%. In diminuzione sul mese precedente risultano i prezzi delle comunicazioni, meno 1,1% e dei prodotti alimentari e bevande analcoliche. Intanto, stando al supplemento al bollettino statistico per la Banca d'Italia dedicato alla finanza pubblica, il debito pubblico italiano a marzo è salito alla soglia record di 1.946 miliardi di euro, a febbraio era quota 1.928 miliardi, a gennaio era stato toccato il precedente record con 1.934 miliardi. Le entrate tributarie nei primi tre mesi del 2012 si sono attestate a quota 83,168 miliardi di euro, in calo dello 0,5% rispetto allo stesso periodo del 2011. Nel solo mese di marzo gli incassi sono risultati pari a 26,237 miliardi con una riduzione del 3,61% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso quando furono pari a 27,221 miliardi. Monti non lo dirà mai ma si rallegra del tonfo della Merkel alle elezioni tedesche. Il premier italiano si prepara a fare squadra con il presidente francese Hollande. Al di là delle belle maniere mostrate nei confronti di Angela Merkel, il premier italiano Mario Monti non pare scontento del risultato delle elezioni in Germania. In precedenza Monti aveva fatto riferimento alle forti tensioni sociali che percorrono l'Italia. E Hollande è un alleato prezioso e subito è stato messo in agenda un primo incontro bilaterale con il nuovo inquilino dell'Eliseo. Monti e Hollande si vedranno venerdì a margine del G8 a Camp David dove Hollande illustrerà agli altri grandi il suo New Deal 2.0 imperniato su investimenti infrastrutturali mediante prestiti europei, aumento dei fondi della Banca Europea degli investimenti, la Tobin Tax europea e il rafforzamento del ruolo della BCE e degli Eurobond. Monti è all'Eurogruppo intanto e una prima importante novità sarebbe la messa ai voti della Commissione Econ, cioè la proposta di istituire un fondo di redenzione del debito per una garanzia collegiale europea di quella parte dei debiti che eccedono la quota del 60%. Sul piano interno Monti oramai è convinto che la tensione sociale si possa allentare solo con una crescita adeguata. Non è stato casuale che nel vertice notturno con alcuni ministri si sia discusso a lungo del problema della compensazione dei crediti delle imprese verso lo Stato. In settimana arriveranno tre decreti ministeriali per sbloccare i pagamenti da parte della pubblica amministrazione consentendo alle imprese di farsi certificare i propri crediti per poi andarli a scontare in banca. Ma non è tutto, l'altra leva nazionale è quella della Spending Review, una corsa contro il tempo per trovare 4,2 miliardi di spese correnti da tagliare ed evitare così l'aumento dell'IVA dal 21 al 23%. Il presidente napolitano è nel capoluogo Lombardo. Durante la visita alla Consob si è detto ottimista sul futuro del nostro paese. Sentiamo. È stato un anno abbastanza brutto ma ci sono le condizioni per venirne fuori. Fiducia. Con queste parole il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è uscito dall'incontro annuale con il mercato finanziario alla Borsa di Milano, dove ha ascoltato la preoccupata relazione del presidente della Consob, Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, Giuseppe Vegas, che ha definito quello passato un annus sorribilis. Diciamo che gli argomenti più importanti e più incisivi sono quelli relativi alla finanza e quindi a quella parte di finanza che non aiuta l'economia reale e le imprese ma è speculativa. Quindi il fatto che Vegas opportunamente abbia aperto un faro sugli ETF che sono strumenti semplici per l'investitore retail, per l'investitore normale, ma nascondono dentro di sé tutta una struttura di derivati che potrebbero essere la futura bolla speculativa, beh, questo è molto importante e come molto importante è la regolamentazione della vendita allo scoperto. È giusto che la finanza venda se hai titoli e comperi se hai soldi per comprarli e non con i CDS o con altri strumenti che, come abbiamo visto nell'ultimo caso di JP Morgan, possono sconvolgere un'intera economia, quindi anziché aiutare l'economia reale la danneggiano. Si moltiplicano i presidi antiterrorismo delle forze sindacali. Oggi davanti a Palazzo Marino si sono dati appuntamento quelli di polizia insieme ai familiari delle vittime. Il terrorismo è sempre più presente, soprattutto dopo gli ultimi fatti di Genova e gli ultimi volantini apparsi a firma delle nuove BR. Presidio davanti a Palazzo Marino dei più importanti sindacati di polizia e le associazioni delle vittime del terrorismo e il movimento non remare contro. Sono qui in piazza con gli amici poliziotti per sostenere la loro protesta, preoccupato soprattutto per la nomina e il mantenimento dell'incarico ad Azzolini, specialmente alla luce di quello che è accaduto a Genova. Il fatto lo rende ancora più grave, in quanto non vorremmo che i nostri giovani cominciano a pensare che l'eversione, la violenza può essere un viatico per fare carriera nelle nostre istituzioni. Ci hanno detto che quegli anni erano finiti e invece noi allarmati per quello che continuamente negli ultimi 35 anni è accaduto nel nostro paese, lancevamo il nostro grido di allarme che è stato inascoltato. Quello che è successo a Genova è gravissimo, è soltanto alla punta di un iceberg, è inutile che le istituzioni portino in campo l'esercito per proteggere perché questi, come i loro predecessori, coloro che hanno dato loro l'esempio, colpiranno sempre le persone indifese e inermi. Appello anche al presidente napolitano con una cartolina che chiede la rimozione di Maurizio Azzolini, ex terrorista coinvolto nel nomicidio Custra, dal suo incarico proprio a Palazzo Marino. Nel 1974, quando è successo il fatto di Custra, io ero presente e ero con Custra in via di Amicis e quando ho scoperto che all'interno del comune c'era chi ha contribuito alla morte di Custra perché è stato condannato per favoreggiamento, ho cercato di far capire a Sindica che non era opportuno nominarlo a capo segreteria di un ente istituzionale, la segreteria del vice sindaco Maria Grazia Guida. Non ho avuto nessuna risposta, abbiamo deciso di preparare una cartolina, una cartolina da inviare al presidente della Repubblica che riporta una frase di un bambino che era convinto che suo papà era morto ma che era servito allo Stato e in un colloquio mi aveva detto allora mio papà è morto in vana visto che i terroristi hanno una collocazione di prestigio. Sono stati avviati i cantieri per le opere complementari alla metropolitana di Brescia. Il servizio. Cantieri in vista nei prossimi mesi a Brescia dove è stato presentato il volume su quelle che saranno le trasformazioni della città attraverso le 17 opere complementari alle stazioni della metropolitana. Manderemo una coppia, sono poche però le biblioteche sono nove quindi le manderemo in ogni biblioteca in modo che sia disponibile chiaramente e in più faremo mettere sul sito internet tutti i progetti in modo che se uno vede che parte il lavoro nella sua zona può andare a vedere che tipo di lavoro sarà. Nonostante il bilancio ridotto all'osso che ha portato il budget da 83 milioni di euro a 25, oggi hanno preso il via i cantieri. Partiranno già 5 cantieri di questi, noi ne abbiamo già appaltati 14 e ne mancano ancora 13 perché una è la strada della poliambulanza ne mancano ancora 4 che verranno appaltati nel giro di un mese, un mese e mezzo. È chiaro che ci sarà un disagio in queste 17 zone della città di Brescia, alcune va bene su doppio limitrofe come il parco di San Polino e così via però in alcune zone come ad esempio l'ospedale o Piazza Vittoria che comunque è già stata coinvolta molto ma l'ospedale che non era mai stato coinvolto, lì chiaramente tutta la piazza verrà trasformata. Facciamo spostare alcuni servizi da parte di A2A e da parte di Telecom dove verranno fatti i cantieri. Lì all'ospedale, più che altro via San Rocchino che poi arriva in piazza dell'ospedale stanno facendo i lavori A2A per il teleriscaldamento. Peraltro noi entro la fine del mese presenteremo il piano asfaltature della città che quest'anno chiaramente, quest'estate sarà anche questo un altro impegno da parte nostra, A2A, Telecom è limitato quest'anno rispetto agli anni scorsi per chiaramente le carenze di bilancio però tutto insieme penso che la città di Brescia quest'estate sarà un'estate di cantieri. Incidente mortale alla stazione delle Nord di Cusano, Milanino. Si pensa alla casualità ma non si eludono altre ipotesi. Il treno delle Ferrovia Nord diretto alla stazione di Milano-Rogoredo ha investito una persona uccidendola sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno potuto solo constatarne il decesso. L'incidente è avvenuto nel 9.25. Il fatto si è verificato alla stazione di Cusano, Milanino. È un punto importante di passaggio per numerosi passeggeri gravitanti nell'area del Nord Milano. La stazione, che preside i due binari, non ha comunque un sottopassaggio per far trasidare i passeggeri da un marciapiede ad un altro. Il punto, pertanto, risulta pericoloso e l'attenzione richiesta quando si attraversa deve essere molto elevata. La vittima potrebbe aver tentato di passare all'ultimo momento senza accorgersi del treno in transito. Per il momento pare questa l'ipotesi più accreditata, anche se non vengono escluse altre possibilità. I passaggi di routine sui rilievi scientifici da raccolta delle prime testimonianze da parte della Forza dell'Ordine hanno richiesto molte ore con forti ripercussioni per la circolazione su quel tratto ferroviario locale. Abruzzo e Lombardia insieme grazie ad un'iniziativa benefica organizzata al Teatro Arcimboldi di Milano dall'Associazione Mattioli e dall'assessorato provinciale di Palazzo Isimbardi. Si dice che c'è un secondo Abruzzo, l'Abruzzo ha 1.250.000 abitanti, quindi un altrettanto numero di abitanti sembra viva ormai all'estero di prima o seconda generazione. Avere un rapporto tramite l'assessore altitonante con Milano e con la sua provincia per noi è particolarmente importante perché non dimentichiamo che Milano è certamente una vera capitale economica, non solo d'Italia ma una delle più importanti città d'Europa. Noi abbiamo necessità di mantenere contatti e rapporti, abbiamo un desiderio. La rappresentanza abruzzese qui a Milano e in Lombardia è perfettamente integrata, ha assunto anche ruoli importanti per esempio nelle istituzioni come nel caso di Altitonante e noi pensiamo che questi rapporti debbano continuare a crescere. Ho voluto creare un momento di aggregazione tra tutti gli amici abruzzesi per una riscoperta di valori che ci legano e soprattutto il tema è Abruzzo e Lombardia, quindi quello che ci ha dato è tanto Milano e la Lombardia, poter avere una giornata all'anno dove si possa riflettere in serenità con della musica e poi il filo conduttore e la solidarietà. Prima del terremoto abbiamo raccolto fondi per l'ospedale di Pescara e il reparto di pediatria e dal 2009 dopo il terremoto ci stiamo impegnando ed è partita da Milano il progetto per aiutare un'associazione dell'Aquila che sta costruendo una piazza della memoria all'Aquila dove sono morti dei ragazzi, dei ragazzi giovani e la provincia di Milano è protagonista. Quindi non ci siamo dimenticati del terremoto come istituzione, come persona nata in Abruzzo stiamo andando avanti, io credo che questa sia una manifestazione importante. Con questo è tutto, grazie e arrivederci.